ci siamo ok dovrebbe essere arrivata la notifica la notifica è arrivata buonasera a tutti ragazzi ciao ci siamo formazione ancora ridotta per vacanze ultimi sgoccioli di vacanze tra poco arriverà il fede l'ucon non abbiamo ben capito speriamo io invece sono che sono finite le vacanze infinite le vacanze infinite sono finite stanotte sono rientrato da sardegna come vedete sono sono a casa domani si ricomincia a lavorare giusto io premetto che ho visto il giusto sia della vuelta il bretagna invece l'ho visto io ti dico questo oggi oggi ho voluto strafare alla vuelta l'ho vista solo visto solo l'ultima salita quindi prima ho mollato completamente perché ho provato a guardare nell'ordine tour della venire giro di germania e campionati del mondo di mountain bike poi ci ho fatto incastare anche la volta di braido giusto poi sono riuscito a facci incastare l'ultima salita della vuelta proprio per il rotto della cuffia quindi ho visto ho cercato di guardare tutto e poi ho visto un po di un po di tutto diciamo dai perfetto perfetto perché così compensi me che ho guardato praticamente niente è una malattia mentale mi ricovereranno presto in clinica psichiatrica non è che c'è non ne vado fiero di questa cosa invece dovresti andare ma è bene pure non so se ne avevate già parlato qualche live no aspetta sì aspetta ora non iniziamo subito con il vero sennò prende tutta la trasmissione poi partiamo con calma partiamo dal dal basso verso l'alto diciamo dal tur dell'avenire dal basso laurent no lorenz lorenz no partiamo dal tur dell'avenire dal basso e dal basso dai più giovani fino a io partirei dal tur dell'avenire giro di germania bretagna volta veloce cosa vuol dire che non mi carica la live cavolo di dammi qualche dettaglio in più vediamo se riusciamo a sistemare in questo in questo in questa tre settimane ho anche fatto fatica infatti ho fatto anche dei disastri mi sono scordato le il fatto che le pro series ti bloccavano solo c'è solo c'è lo siamo scordato tutti praticamente però era una cosa che era venuta fuori anche inizio stagione se vi ricordate però 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 io me lo anche me lo sono dimenticato comunque comunque l'idea è stata una cosa buona alla fine questa cosa va cambiata che ha fatto un disastro comunque questa cosa va cambiata perché e se verrà cambiata il prossimo anno perché questo è un bug che verrà assolutamente era risolto perché non ha non ha senso di esistere però sapete sapete che con l'introduzione delle 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 pro series e qualche problemino era anche immaginabile e purtroppo l'abbiamo scoperto all'inizio dell'anno ma soprattutto adesso perché ci sono state fino adesso pochissime gare in contemporanea tra le pro series e le world tour ricordiamo che il tour of britain sarà in concomitanza con le salari quindi si ricorda l'occhio alla pena che inizia il 4 settembre il tour of britain appena inizia il tour of britain bisogna controllare solo che non è facile perché ovviamente uno dovrebbe fare i cambi per le canadesi già il 4 e non è detto che poi quelli che prendi non si prendono il coro o poi all'ultimo momento vengono per esempio stuven o come o staufen come lo chiamavano staufen no era andato partente fino all'ultimo poi io per caso stamattina ho visto che non c'era più l'ho cambiato a caso con altro ma cioè vabbè è andata così comunque allora io sono d'accordo con alessandro ruga però partirei dal basso qui in termini comunque di importanza della corsa via diciamo calma alessandro ruga partirei dal basso bisogna partire da volta visto il livello che c'è in salita ma comunque partiamo dal basso nel senso ampiamente ampiamente prevedibile direi allora tour dell'avenir tour dell'avenir si conclude con il super grande favorito predestinato che era già stato nominato nuovo e bene poi prima che venne può diventarsi un corridore serio si hanno gli uite brux e brux che se si è vinto studio tour dell'avenir in scioltezza vincendo praticamente quasi tutta una tappa si vabbè stracciando comunque le avversari nettamente e delusione clamorosa leo e te vincitori del giro d'italia che penso abbia preso più di un'ora in totale mai visto sparito vedremo e comunque vabbè questo de brux che dopo ha detto che sogna già la maglia gialla del tour de france quindi calma insomma non si scherzi ora il prossimo anno ci sarà già e venipul che sogna la maglia gialla del tour de france bing e guarda po gaccia e ut e brux aiuso saranno troppi sti giovanotti che vogliono ricordiamo che vince thomas ricordiamo che witte brux invece è già stato è già praticamente nella rosa della bora e quindi è a tutti gli effetti un corridore già del world tour anche quest'anno però è stato tenuto se le corse abbastanza minori ma il prossimo anno penso che lo svizzero ma un calendario tipo di però stanno va netto è sparito perché in effetti va netto era il secondo del giro d'italia del 23 e si è ammalato e si è dovuto ritirare perché prima delle salite quindi sparito ma non non per colpa sua dai la disfatta diciamo che è soprattutto francese perché l'anni martinez ha fatto pena e si ha ragione ha ragione non erano fenomeni l'anni martinez ha deluso e gregoire per ora per ora ora ve lo dirò sempre così per ora non è un corridore da grandi salite perché al giro d'italia presse 10 minuti mi sembra della salita dura che c'era e anche stavolta ha preso cioè è un corridore alla tipo alla philippo per ora per capirsi che vince e ordinare che che scavatore è per ora nelle salite lunghe prende tanti minuti quindi si delusione francesi l'italia veniamo alla teniamo alla si ragazzi è per nazionali e quindi valgono tutti tutti quelli che sono ognuno porta ai migliori nel senso no l'italia comunque non male peccato oggi è crollato piganzoli che era terzo in classifica e andato quinto quindi se oggi bene fancello quindi fancello quinto e sesto piganzoli quinto fancello sesto e non è proprio il massimo ma comunque è considerando che oggi ha vinto milesi la tappa in fuga esatto non ci potremmo quindi è arrivato anche il quindicesimo nella classifica generale quindi abbiamo vinto la classifica a squadra può andare bene dai è chiaro che è chiaro che noi fenomeni non ce l'abbiamo però non c'è non c'è dubbio su questo perché ho dei brux ce l'ha una ce l'hanno i belgi anche loro c'è anche lui e quindi il fenomeno ce l'abbiamo però comunque non mi sembra male come prestazione dai poteva poteva andare peggio vabbè da quarta a quinta ora comunque ha preso un minuto oggi in pratica secondo il norvegese staun staune mi mittet mittet johannes staun mittet che ha vinto anche una tappa se non mi ricordo male no 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 fatto due due terzi un secondo al prologo ed è della jumbo visma però il prossimo anno correrà ancora nel gru nel ma anche esso ma nella jumbo sono tutti già sono tutti già nella orbita nell'orbita che conta bora jumbo la roba vabbè noi no però quindi il secondo terzo quarto sono tutti della jumbo visma e quindi in italiani no però che dobbiamo fa comunque nel senso fancello era cosa era un po sparito tirato si fece la diretta con basso comunque oggi è andato bene la salita era perché poi oggi era una tappa un po strana perché poi l'ultima salita era ridicola però c'era l'isirano prima è stato lui che attaccato e ha scremato praticamente il gruppo poi è arrivata la fuga però è andato bene insomma va bene ci si sta ricordiamo che c'erano anche qualche defezione nell'italia giusto che c'era un frigo poi avevo letto anche degli altri che mancavano almeno altri due quindi come come formazione un minimo rimaneggiata direi che è positivo sì in più c'è da sottolineare però che per gli italiani il discorso è sempre lo stesso da fare i risultati come quello di zana l'anno scorso a rendersi protagonisti nel world tour vediamo perché comunque comunque intanto qualcosa qualcosa abbiamo qualche segnale qualche segnale c'è di cronoscuadria ma la prima non faceva la prima era cortissima e non faceva classifico comunque germani non c'era vero nessuna cronoscuadria è solo due cronoscuadria germani esatto sì mi vedi che c'era qualche qualcuno come lo ricordavo e karty sta facendo quello che sapete tutti sta cercando di entrare in top ten piano piano come come di leo ci insegna perché ricordiamo che karty uomo da terza barra quarta settimana ma ce la farà perché questa volta veramente vedo una devastazione dietro un altro nome di cui dovremmo affrontare le peripezie ne io la chiedo così come avevo detto così poi giro di germania veloce ma giro di germania ho seguito solo i risultati ha vinto adam yetz la classifica generale che ha vinto ieri si che ha vinto ieri nella salita però oggi c'era una tappa mossa e questo il nuovo bilbao che punta le forze di un giorno oggi ha vinto allo sprint con guerriero bettiol altri insomma ma bettiol una volta non era un nuovo veloce oggi praticamente ha lavorato per guerriero infatti io pensavo fosse il contrario che guerriero magari lavorasse per bettiol allo sprint e poi invece infatti hanno perso è la verità perché comunque niente un buon bilbao che vince allo sprint ristretto e che vince la classifica generale si guarda di leo io ora ti do ragione al cento per cento cioè ti seguo su tutti quelli che dici e cosa è combinato a germania suppongo niente visto questo messaggio niente è stato battuto da chiunque attenzione che c'è un messaggio minatorio vabbè giro germania altri altri due minuti giro germania vabbè ce lo sbrighiamo così le prime due volate e vabbè dai niente di chi è una la vita a cristo fra l'altro non mi ricordo neanche no poi a casa e a casa del cascato è data a casa e allora vabbè dai chi se ne frega c'è un buco di memoria no diamo il gatto la seconda è lassù il gatto è la prima caleb è vero che era rinato perché ha vinto solamente perché era stato escluso dal mondiale è vero ha vinto subito e poi è sparito uguale completamente un'altra volta dimostrando che hanno fatto bene a non chiamare vabbè vare schiold mi sa che ha vinto la prima tappa apprezzo ha tenuto un po la maglia però mi aspettavo qualcosina in più giusto e torniamo un attimo all'avenir per analizzare magari velocissimamente i veci velocisti vanuden ha vinto la maglia a punti l'olandese è quello che è andato meglio in volata poi vedo che sembra un ball numero due però non vorrei sbagliare come stazza come stazza ti dicono è proprio troppo grosso vanuden della dsm steynhauser è non pervenuto steynhauser è stato versando un anno da è proprio un anno complicato poi ha vinto una tappa e la terza una fuga direi colm jorgensen la quarta glory blog che anche lui è della jumbo sì che poi si è ritirato anche lui perché malato tra l'altro vinto blog davanti ancora a olm jorgensen che non so chi sia che ha fatto un primo secondo posto e invece nel nelle volate italia inesistente perché è brutto messo che ero uno quello che ha vinto la prima tappa al giro d'italia under praticamente non ha mai fatto una volata se non ho capito male e quindi quindi niente per le volate siamo tour dell'avenir da dimenticare però per il resto da andiamo avanti vai engelhardt che andiamo avanti giro del germania fatto tour dell'avenir fatto poi se avete qualche qualche chicca scrivete la germania si è detto germania si è detto velocemente chi ha vinto eccetera questo bilbao più che altro era da segnalare ieri vabbè ha vinto una segreste c'era solo lui in pratica di non è che abbia fatto un granché però va bene per il resto no mountain bike prima di passare alle due corse del giorno mountain bike che me lo sono visto praticamente e chiaramente dopo le gufate di fede quel maledetto quel maledetto piddco che oggi ha vissuto una giornata perché te non lo sai ma ma ha detto che se pittico che fa più di venti punti esclusi il bonus per il bonus e presenza mi paga cena da qui alla fine dell'anno vita e quindi sta gufando l'altro giorno l'appunto l'app è diventato tutto gonfio oggi giornata da dimenticare crisi totale con caduta rottura della bici crisi di caldo non lo so di tutto ha avuto è arrivato al traguardo quarto incazzato nero perché perché chiaramente ci puntava perché lui partiva dietro partiva molto dietro poi è recuperato e poi è arrivato lì e poi no vabbè poi è scoppiato un po è però poi anche caduto è successo di tutto comunque iniziano le disgrazia di pico pico grazie alle gufate di l'arte maledetto e quindi ha vinto il solito lo svizzero mi sfugge il nome nino schurter schurter che al decimo mondiale vinto secondo uno spagnolo che non so chi era terzo buono l'italiano comunque braido si pette si prende sta medaglia e se la porta a casa era uno che comunque puntava anche a vincere possibilmente l'altro svizzero forte era stato squalificato per doping quindi capito c'era una possibilità vabbè una medaglia per l'italiano ecco bravo anche nell'anno del 23 nell'anno del 23 invece abbiamo vinto si ha vinto l'italia con simone avondetto vero 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 e va bene lo spagnolo e valero serrano però non comunque terzo posto per un italiano non l'ho visto l'ho solo letto la notizia che non ha fatto benissimo e poi si è visto perché perché anche oggi è stato abbastanza inguardabile è migliorato poi vabbè ora io non è che l'ho seguito tanto la volta un bike in questi anni quindi non è cioè era sempre stato lì dei nomi outsider ma non era mai comunque sono due sono due sono non so quale no si parlava sempre di luca e però non è mai entrato nel ventaglio dei favoriti david valero lo spagnolo e di granada ci dice manuel samaniego sanchez e lui lo sa che spagnolo manuel samanie si 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 in sagani mi aspettavo che andasse a fare mountain bike normale non con elettrica però fatto pare ha bisogno oggi ci voleva che oggi la bicicletta elettrica alla britannia vi sappi che ho visti che non va non va non va anche era anche mossa come 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 classica e quindi ciao poi faccio ora abbiamo detto quello che dicevano anche della pista qui aspetta nel mondiale un'ora su pista stiamo risorgendo anche nel settore della velocità mi sa che anche agli europei abbiamo fatto qualcosa sulla velocità miri invece se non mi ricordo male che dovrebbe essere amica sia dell'alzini che della guazzini e secondo me ci avevamo fatto anche un secondo posto nel chilometro da fermo può essere se qualcuno mi aiuta dalla chat un qualcosa anche a livello maschile avevamo fatto notizia dell'ultima ora ci dice chung fai keng direttamente da bahrain che vine era a casa di era a casa di cancellare prima della guelta ecco vedi 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 che vedi che io non ho seguito però qualcosa mi ricordo un italiano fatto medaglia di argento sul chilometro da fermo ecco vedete ragazzi invece la vece ricordavo bene nei 500 metri invece grande amica di sia dell'alzini che della guazzini paternoster invece è come avete visto fatto una caduta tremenda definita in ospedale però sembra niente di di clamorosamente grave viviani dopo aver corso l'europeo in in strada come avevamo detto secondo me anche l'altra volta ha vinto l'eliminazione su pista e quindi 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 notizie discretamente positive anche dalla vista no bretagna no ah è vero tentavo di dimerticarlo con la gara si va per categoria categoria o si hai giusto 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 bretagna io guarda faccio fatica a commentarla eh pensavo facessero corsa più dura eh non lo so sono arrivate in fondo cioè a parte vabbè ma iniziamo da a vinta van harte ovviamente nonostante tutti gli corrono contro perché tutti gli corrono contro e questo si vede benissimo non sembrasse avere una gamba eccezionale di tempi però ti ho detto eh se c'è da inseguire stanno tutti dati a lui tocca sempre a lui tu giocano tutti giocano tutti contro di lui cioè tutti per lui giustamente eh non voglio dire però cioè tanto perdi uguale o la butta via perché ha alla beme perché l'ha buttata via lui perché altrimenti avrebbe visto una vinta anche veda se non avesse dormito quindi è inutile correre conto perché perdono uguale capito perché è più forte e quindi cioè è inutile correre contro van harte per far vincere eh non lo so uno qualsiasi che scappa no cioè eh ragazzi eh giocatela cerca di attaccarlo cioè è inutile giocargli tutti contro se tanto poi perdi uguale se è più forte è più forte arriva secondo cioè fate una ragione cioè eh in tante occasioni secondo me oggi eh lui e altri tre o quattro potevano andare via potevano andare via ma non sono andati via perché non lo aiutano e non aiutandolo poi ma il problema è che poi sono arrivati cioè sono arrivati poi in troppi e poi in una volata così visto secondo vince lui comunque poi secondo arriva Lorenz di eh terzo campo che per l'amor di Dio ha fatto bene anche all'Amster eh però insomma mh cioè secondo me potevano andarsela a giocare a Ramburo che ormai eh non lo so e arriva sempre dietro no è arrivare dietro è volata la volata lo sai no è difficile poi non è che siano velocisti puri però cioè ogni volta che va n'arte ha provato a strappare e tutti stavano dietro a lui lo guardavano tutti quando c'era da chiudere su qualcuno toccava a lui e tutti dietro a lui cioè allora tutti conto di lui è giusto che vinca e ben ribata tutti scusa perché vuol dire che non sono io la penso così però concordo su tutta la linea e però io partirei ancora prima da quel discorso che hanno tolto i due settori di sterrato praticamente ieri sera forse stamattina addirittura e l'organizzatore chi dice arrabbiato dice arrivano in volata vabbè in realtà comunque non penso che lo sterrato abbia fatto tutta questa differenza però più chiaro aveva detto che voleva aveva voglia di annullare la corsa che avevo letto stamattina cioè l'organizzatore aveva detto che aveva voglia di se non ho capito se non ho capito male hanno imposto di togliere purtroppo sai qual è il discorso io potrei anche essere d'accordo perché sono sempre stato contro il pavè nelle gare dove non ci incasta niente ma non puoi farlo il discorso è questo il discorso è questo prima cosa lo devi di prima e cambia la corsa allora oppure nel senso mi sono scusato cosa volevo dire beh si fa solo per alcune corse perché non hanno detto a turi che il pavè non andava bene lo hanno cancellato no nel senso cioè protestano con i deboli diciamo fra virgolette anche se questa è una corsa world tour francese però cioè protestano con i deboli ottengono con i deboli cioè quando alla fine anche giro d'italia è debole perché quando protestare al giro ottennero no ricordi ma il tempo e roba varia al tour tutti i siti sempre possa fare qualsiasi cosa psicologico tutti i siti nessuno potrebbe essere su niente poi mette qualsiasi cosa punti punti levatoi castelli se pavè eccetera eccetera stanno tutti i siti e con la bretagna e vedi è bastato che due o tre francesi alzassero la voce pare confrò godù non lo so anche poi hanno fatto una bella figura sì infatti mi ci voleva lo sterrato almeno andavano in terra e barghile per l'amore di dio e hanno ottenuto però subito la cancellazione luciai chiaramente subito questa volta era molto pronta quando c'è quando ci sono i dossi o le transenne eccetera eccetera stanno zitti ora perché due francesi hanno detto che c'era lo sterrato non andava bene erano d'accordo anche loro ma scusami un attimo però se non ho capito male erano in salita questi sterrati cioè cosa c'è di di pericoloso non ne ho idea non so neanche se erano in salita o no non ricordo mi sembra mi sembra fossero in salita però ci dice Ilario se lo sterrato era quello come quello delle donne al tour e sinceramente ha fatto bene sì quello delle donne al tour sinceramente non era strato quelli erano pietre e massi quindi quello non si poteva fare cioè almeno credo se era così effettivamente effettivamente forse aveva una ragione se era uno sterrato normale non vedo perché in salita vada cancellato più che altro ti ho detto a meno non è quello il punto è che se sempre c'è sempre con i più con i più deboli capito con le organizzazioni più deboli per il resto fanno gli schiavi fa un tratto forti con i deboli e deboli con i forti ecco sì dai purtroppo la verità è questa che volevo dire bene sì eccolo quali sono polemiche no 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 ora si parlava della bretagna che sono degli sterrati che hanno cancellato gli sterrati perché hanno protestato tra i francesi al tour non si alzarda un apri bocca però alla bretagna a quanto pare io vorrei fare complimenti comunque alla bardiani che insomma ha onorato la corsa fiorelli ci è stato gioccarato un fuga è la prima corsa world tour dove si fa una gran bella figura fiorelli quinto anche piccolo comunque oggi era era lì davanti in una fughetta poi si è piazzato no mi sembra di aver visto vabbè piccolo non è mica della bardiani no ma è della f però è giovane italiano anche lui nel senso ha fatto bene ha fatto quindi buono comunque ragazzi chi doveva vincere ha vinto cioè oggi ha giocato un'arte non so se anche se a 100 metri pensavo vincesse dell'ipo si è un po' piantato è partito secondo me l'ha fregato che è partito lungo nasen è partito la nasen lunghissimo e de lì è andato subito dietro e lì ha sbagliato perché nasen è partito troppo lungo de lì doveva aspettare un attimino doveva far partire van harte e andava dietro e forse si poteva giocare meglio le carte io dicevo sulla bretagna non so se sei d'accordo che corrono tutti contro van harte e poi se lui non la butta via da solo li batte comunque perché altrimenti se non avessero corso tutti contro di lui de lì non sarebbe mai arrivato a giocarsi la volante mai mai perché van harte avrebbe portato via un gruppetto con qualcuno più resistente non si sarebbero portati de lì in fondo e nemmeno l'oranza è stato bravo ragazzi è l'unico diciamo velocista tra virgolette viviani nizzolo demar ce n'erano anche altri manius corto ad esempio che totalmente scomparsi a parte che nizzolo e viviani non erano a parte che loro non hanno bisogno di punti tante cose però la delusione del giorno a parte che poi mi attacco ai discorsi di van harte è che la gruppa me ha fatto cagare cioè puntano su demar scomparso allora come seconda punta hanno madua e godù madua allora madua ti ripeto è il discorso è quello è che se te c'hai van harte e quando parte van harte tutti remano contro oppure fanno chiudere tutto a lui capito si vede gli corrono contro allora te non lo porti via un gruppetto perché madua se arrivavano in tre o quattro cinque allora poteva giocarsela no magari non per dirlo anche lungo potrebbe essere un'alternativa ha fatto cagare anche lui però è chiaro che se ti porti dietro dei mezzi velocisti o velocisti anche puri è chiaro che poi rischi di perderla è giusto che abbia vinto van harte con tutto rispetto si poi un po' ha battuto gente che vedevi lì in una gara war 2 di un certo prestigio con tutto rispetto camp in realtà aveva fatto bene già all'hamster era arrivato il quinto se non sbaglio si camp è già un paio d'anni si fa vedere però però si fa vedere due volte all'anno si si e lorenz onestamente anche la bnb la squadra di squadre continental anche lorenz ha tirato fuori un secondo posto non da poco però insomma il percorso il percorso era ma parlavi prima ti ho sentito in live che stamattina partiva uno e allora l'ha cambiato all'ultimo secondo chi è? Stuyven Staufen 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 era dato come uno dei favoriti anche e poi mi sono trovato stamattina cinque minuti prima della corsa visto che c'era ho cambiato a caso vi racconto il mio il mio fantasycling di merda di quest'anno allora io non so se ho un panchino anche a Iuso non mi ricordo però decido di mettere alla vuelta Juan Pedro Lopez invece di Carlos Rodriguez giusto lasciamo perdere giusto sto cazzo Juan Pedro Lopez dentro e Carlos Rodriguez fuori pensando che all'aino però Juan Pedro Lopez te l'avevo detto che si ho capito ma prima della vuelta tra i due tra Carlos Rodriguez che ha 20 anni e dici cazzo c'è davanti c'è a Carapazzo Juan Pedro Lopez ha fatto il miracolo al giro guarda io pensavo qualche fuga una vittoria di tappa due o tre fughe 200 punti 300 punti Carlos Rodriguez pensavo che lo spendevano per aiutare i Siva con Carapazzo non credevo in Gioganarte infatti oggi hanno fatto la botta e invece invece niente oggi è cascato però Gioganarte ha fatto la botta appunto ha fatto la botta però vera però a poeraggio e Matthews dove era e allora ricollegandomi a questo discorso quindi già vabbè tutto l'anno con una zecco una sfiga allucinante Matthews ieri mi sento che De Marr fa cagare De Marr farà cagare perché effettivamente De Marr la Bretagne ha fatto sempre poco poi fecero gli europei su quel tipo di tracciato e andò bene però non era un tracciato dietro però era un tracciato molto più facile e quindi ho detto vabbè L'Evo De Marr siccome c'è anche Pogaccia Pogaccia poi sape un capitolo su Pogaccia visto che si parla tra i tracciati che io mi dissocio e mi dissocio e vi offenderò mi stanno facendo fare figure di merda una dietro l'altra ma che figure di merda quando vincerà Lombardia poi dopo la farà la o il mondiale o il mondiale o il mondiale magari non lo so perché devo andare a correre così ma perché scusa non ho capito tutti possano fare le corse per prepararsi per prendere un po' di ritmo lui no lui no lui deve correre solo quando può vincere spiegami come ci aveva abituati come ci aveva abituati ci aveva abituati male infatti ha perso ha perso il tour quest'anno non so se ti torna la cosa non si può fare però fino al tour de France dovunque lui andava io non mi ricordo guarda la gara dove mi ricordo che lui ha fatto un po' cagare tra virgolette era la Bretagna dell'anno scorso dove però per seguire la Philippe con Flouac eccetera eccetera riuscì a prendere l'attacco di Alaphilippe poi però fece qualche chilometro e poi si staccò però ci provò lui invece sia la San Sebastro anche oggi proprio totale ectoplasma e questo è preoccupante dal mio punto di vista perché un Pogaccia che fa due classiche importanti come la San Sebastro e la Bretagna dopo il tour de France e praticamente non si vede per me inizia a essere preoccupante cioè non sono d'accordo non lo so per me fa bene perché a fare come faceva come ha fatto all'inizio invece che le faceva tutte vinte tutte stravinte voleva vincere il Fiandre pensava alla Rubea andava via di là poi Artur ha perso quindi è giusto che si dia una calmata che faccia delle corse anche lui solo per fare un po' di gamba solo per fare dei chilometri in gara e che poi sia vincente speriamo speriamo che sia vincente negli appuntamenti che conta Mondiale e Lombardia io la vedo così e la spero così allora io spero che sia un tifoso di Pogaccia Vendo De Mar e prendo Matthews visto Matthews dove era Vendo De Mar e prendo Matthews perché Pogaccia ha detto magari qualcosa farà domani non mi aspettavo che vincessi però qualcosa farà e invece ho preso Matthews ha fatto anche lui come De Mar quindi ho fatto un cambio inutile praticamente vabbè è inutile Matthews te lo ritrovi dai non mi cambiava niente se lo cambiavo dopo pensavo che a qualche punto lo portasse comunque quello che dicevo io ma nella vita devi mettere un coglione di Siviglia prima di un ciclista di Granada ci odiamo ci odiamo ma nella vita ah ok ok ho capito se uno vuole fare la gamba come era se corri le world tour è vero io allora allora io sono d'accordo con l'arr cioè se vuoi fare la gamba vai a giro di Slovenia vai in qualche gara minore dove è chiaro che vai lì o per stravincere o per vado lì a caso ma perché solo lui quella se no ma no allora perché Pogaccia è sicuramente un fenomeno come è 30 anni che non vediamo perché uno che ha 22-23 anni ti vince due tour di fila non è mai esistito ma cosa vuoi ma te stai facendo il paragone con Van Alte per esempio che fa tutte le corsi che fa le vince ma lui fa mica però le classifiche fa mica la classifica non faccio paragone con Van Alte io non faccio allora spiegami allora è andato a Fiandre manca poco lo vince se non sbaglia la volata alla Sanremo è vero ha deluso però comunque è stato protagonista anche se poi non ha staccato il suo del Poggio alla strada bianca l'ha dominata cioè alla tirana di riatico l'ha dominata ha staccato tutti Vingegaard vai avanti vai avanti vai avanti a giro di Slovenia beh ricordiamo che alla tirana di riatico vinse dando un minuto a Vingegaard e mezzo e quattro minuti ai Vene tanto per così per ricordare com'era il ciclismo qualche mese fa prima di di oggi sicuramente sicuramente al Tour ha trovato un grande Vingegaard e lui l'ha accusata questo sicuramente anche a livello quando sei convinto di essere più forte qualsiasi cosa fai 90-100 vince o arrivi lì per vince lui già allora probabilmente al trittico delle Arden c'era il discorso del che lui saltò alla Liegi per il lutto familiare della sua ragazza già alla freccia non era andato benissimo perché sul mur dei Wiss era un po' piantato e no cos'è che saltò l'Amster mi pare il Pogaccia non fece o non fece la Liegi la Liegi perché c'era problemi familiari no è il babbo della sua ragazza mi sembra o la mamma sì una roba del genere alla Sanremo male cioè quest'anno chiaramente alla Sanremo male male però ragazzi un conto è ci provo non vinco ma sicuramente sono uno dei migliori perché sul Poggio ha scattato 700 volte ma non ha fatto la differenza un conto è la San Sebast nella Bretagna che non solo a Sanremo è vero ma non si vede cioè non si è mai visto boh io sto d'accordo con le RR per me una World Tour se ci vai un po' perché ci ha abituato male un po' perché ti chiami Pogaccia un po' perché sei comunque uno dei 3-4 fenomeni che ci sono oggi nel panorama ciclistico pensa a Matthew che era favorito in questa gara e poi arriva dietro la banda allora lui allora vero uno dei favoriti era Matthews vero però sei Matthews cioè Matthews quest'anno ha vinto una tappa Artur apriti cielo cioè per lui è già è una tappa al coso dove l'ha vinta al Paesi Baschi al Catalunio dove la vinse quella tappa che si sentì male col Brelli e quindi Matthews posso anche credere che lui l'obiettivo è il mondiale e se lo sta e se lo sta preparando perché Matthews lui sta evitando di fare lo stesso errore Pogaccia di fare lo stesso errore di volerle fare tutte va con calma tranquillo rilassato e poi dopo speriamo che nelle occasioni che contano si vedi Paolo però un conto è dire alla Sanremo Alfiande ha sbagliato determinate cose ma c'era un conto è dire che alla Sansebastia a Petrani che non sono queste due classiche e va bene diciamo sono di seconda o terza fascia rispetto alla Sanremo ma non si è visto e due anni fa l'anno scorso il Pogaccia che andava anche quest'anno alla Strade Bianche perché comunque la Bretagne e la e la Sansebastia a livello di prestigio sono come la Strade Bianche poi la Strade Bianche siamo d'accordo che è bellissimo però a livello di prestigio di Montepremio di tipologia di gara vabbè sai che non è così che la Strade Bianche interessa ai corridori anche se è di categoria 5 la Bretagne non interessa a nessuno no la Sansebastia è già meglio dai la Bretagne interessa ai francesi soprattutto sono gare in cui ma l'ha fatta l'inizio agile ma perché poi Pogaccia non era nella start list e poi ci hanno messo praticamente ieri perché secondo me c'era lì si va un si va la faccio una faccio e già questo vice doveva far capire noi i stronzi che l'abbiamo schierato e non l'abbiamo venduto e comunque ci stava di venderlo e prendere magari un paio di elementi perché lo vende scusa io non lo vendo no perché scusa cosa lo vende tanto poi lo devo riprendere fa le due canadesi ma fa le due canadesi se le fa così ora chi ce l'ha lo schiera ma chi non ce l'ha non ce lo ricompra alle canadesi perché è un rischio andrà a spendere 60 per uno che magari ti arriva 72esimo alle due canadesi oppure le vinci ma dopo scusa ma tanto dopo c'è il mondiale c'è la lombardia quindi te lo devi tenere siamo d'accordo ma allora poi non è successo la mia idea era quella poi ho venduto De Marre e buonanotte perché la mia idea era quella di vendere Bardet sono rimasto anch'io inculato perché Bardet fa il giro di Germania di merda e quindi purtroppo come ci hanno già detto in tanti ma già l'abbiamo ripetuto quest'anno l'app ha un piccolo bug si è già detto si è già detto ma non lo possiamo sistemare per il semplice fatto lo spiego a chi non lo sapesse per il semplice fatto Bardet il 33esimo al giro di Germania non si è sentito cosa il 33esimo ti si è sentito perché ti ha parlato solo è impattante per quanto riguarda i calcoli e una serie di cose nell'applicazione e se andiamo a fixare questa roba qua c'è una possibilità su 5 che possa far casino con gli scambi le cose e siccome non ci si può permettere di falsare una roba per un bug perché magari è successo una volta qualche mese fa che dovevamo sistemare una cosa e si è aperta una falla poi l'abbiamo sistemata ridando gli scambi o annullando gli scambi a 30-40 giocatori perché per sistemare una cosa qualcuno ne ha approfittato nell'asso di tempo in cui abbiamo sistemato poteva succedere la solita cosa per sistemare questo bug e allora si è detto onde evitare di sistemare il bug e poi dove se putacaso succede sistemare una settimana antera di bug problemi quello ha scambiato tizio e non gli ha contato lo scambio si è detto ok si finisce così l'anno e si sistema poi a settembre ottobre quando finisce la stagione off-season detto questo dovevo vendere Bardet per prendere Confrois e Mathius e correre con De Marre solo che Bardet era lì bloccato e allora mi è toccato vendere De Marre per Mathius però l'idea era quella di vendere Pogaccia poi non è andato bene perché se avessi preso Confrois ha fatto cagare o ha già tirato per Nase ha fatto cagare no ha fatto poco ha fatto e avrei preso magari anche Magnus Cort che poteva essere uno dei favoriti anche lui ha fatto schifo e comunque no Baccani sei impazzito come c'è un'errore qua Bacca ma che cazzo fai c'è stato c'è stato un Bacca no aspetta aspetta Bacca che cazzo mi è veduto Bacca ma che cazzo fai così di punto in bianco aspetta 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 no ha sbagliato ma si ha sbagliato ragazzi dove è aspetta io aspetta il messaggio il messaggio del bianco una piotta donato una piotta non so nemmeno come si fa a ridargli se lui avesse sbagliato io non so nemmeno come si fa a ridargli questi soldi che tra l'altro cioè la metà se ne fotte youtube parliamoci chiaro più o meno la metà aspettiamo un attimo Baccani Baccani son fai il mullà è uscito vuoi il mullà che ha fatto finita di essere Baccani legalo anticipato di Natale non ci credo è impazzito il Natale di Baccani arriva a settembre sappiatelo se Baccani ha dato 100 euro idolo Baccani allora Baccani vieni un attimo online dai perché devi venire entra un po' online bravo questo questo è giusto questo è giusto comunque ha detto bene all'RRR quello è il mio discorso che facevo poco cioè da vendere purtroppo prima della San Sebastian no prima della Vuelta sì prima della San Sebastian prima della Vuelta prima rifarsi un po' la squadra per la Vuelta migliore magari non so e poi riprendere prima del Lombardia o prima del Mondiale se qualcuno ci crede io ci credo prima del Mondiale sì è vero soccorso De Angelis verissimo fece male però fece male mi sembra al gran cioè lui fece il Giro delle Miglia fece male la Milano Torino non fece malissimo Fogaccia adesso non mi ricordo male arrivò lì davanti ma non malissimo fece male al Giro delle Miglia che impennava però ecco e qui si torna al discorso di prima il Giro delle Miglia non è una World Tour come nemmeno la Milano Torino è una World Tour allora lì lo posso capire il Giro delle Miglia è più importante della Bretagna e classica Mulazzi si è perso questo è impazzito 100 euro davvero no vabbè Baccani mi ha fatto il Presidente onorario ma di volo assolutamente dovete fare proprio il giorno del raduno dovete fare proprio la cerimonia ufficiale in cui consegnate le chiavi le chiavi di Fantasikin seriamente sto parlando seriamente anche la caricatura si ma qualcosa di più della caricatura la caricatura è il minimo il punto di partenza se vuoi venire in live mandacela a noi di Fantasikin che ho c'è la gmail.com che ti si manda il link merita la cerimonia ufficiale in cui viene arrivano ora ci metti top flop arrivano no diceva la cerimonia ufficiale ci vede a raduno io pretendo che a raduno Baccani venga insegnito della carica di Presidente onorario di Fantasikin la carica di 100 e 1 no seriamente seriamente sto parlando seriamente Baccani no di Leo giustamente dice che era laminato Rino e Van Arte fece terzo o quarto infatti l'unico gara di merda che fece l'anno scorso in preparazione A fu il giro dell'Emilia dove si mise a penna sul San Luca ma ci sta ragazzi il giro dell'Emilia come diceva l'ERR è una pro series va bene farla in vista dell'appuntamento principale io ma anche cioè per lo stand di Pogaccia è anche la Bretagna a questo punto è vero la scalata del Serra potrebbe essere chiamata Coppa Baccani invece che Coppa Cobra ma sai c'è la Coppa Cobra e la Coppa Baccani è bella sì sì assolutamente comunque non ti fissa su Pogaccia tanto poi vince vince poi tranquillo andiamo con i top e flop dai tanto ce l'ho qui partiamo con i flop Coppa Cobra Cosa 60 Baccani la moneta del gioco giffato Baccani vai i Baccanzani partiamo allora i Baccani sì ora se invece si cambia invece con Lazzani si mette i Baccani maglietta con Baccani che dona 100 euro allora tra l'altro ragazzi vi ricordo il raduno stiamo vendendo diverse iscrizioni cena cena hotel insomma un po' di roba numero limitato 100 post anche perché non siamo in grado di gestire più di 100 persone quindi siamo a buon punto non ci sono tantissimi posti rimasti quindi telecronaca in macchina mulla ma quanto si paga il posto nella miraglia mulla diciamo che sicuramente magari uno che non farà la scalata perché magari c'è chi viene che viene fa solo la cena chi non fa la scalata non c'ha la bici non vuole fare la bicicletta eccetera eccetera potrà salire in macchina con mulla qualcuno mi deve fare da assistente è tu che sali in macchina con me che la faccio la telecronaca da solo che faccio la telecronaca da solo parlo da solo al finestrino non ho capito ci vuole un assistente che mi aiuti cioè almeno un guidatore un guidatore un guidatore un direttore sportivo e due commentatori Samuele potrebbe essere comunque estraiamo a sorte magari la miraglia ecco la miraglia mulla Samuele mi ricordo che mentre mangiavamo Fiorentina si era candidato a questo ragazzi nel senso ci vuole almeno un altro commentatore dono 101 euro e per cui io con te allora allora andiamo sui top sì i baccani i baccani no i baccani in bici no i baccani in bici i baccani va i baccani è la coppa baccani non può non partecipare alla coppa baccani a quella che è stata oggi nominata coppa baccani allora i flop comunque Ale grazie davvero per la donazione sei un folle il marro non ci sarà per camminare non c'è perché lavora è incasinato e allora c'è di Leo e di Leo e Samuele in macchina sì come aiutanti di Leo aiutanti di Leo mi passa le birre e Samuele mi fa aiuto telecronica sì sì cioè commento e poi ci va al guidatore allora allora ora rispondiamo subito a questa domanda un guidatore schiantato lo sovieno allora no perché perché noi abbiamo stilato una lista di più o meno gente che poteva far qualcosa e da lì poi andiamo abbiamo tirato fuori delle minus allora considerate che le minus in questo caso rispettando poi anche le plusvalenze che abbiamo fatto e poi capirete perché sono dieci le plusvalenze sono sette invece sono meno perché hanno sono arrivati i secondi e terzi personaggi in cui onestamente nessuno si aspettava ecco di Lawrence e camp secondo i terzi e quindi abbiamo dovuto scremare un po' il gruppo delle minusvalenze e questi sono venuti fuori perché non Nizzolo perché secondo noi vista la tipologia di gara il percorso e da come si è svolta la gara Teuns poteva avere molto più appeal di Nizzolo per una gara del genere infatti l'unico velocista che è arrivato è stato ovviamente De Lì ma perché questo è veramente forte e è in gran forma quindi i velocisti li abbiamo diciamo salvati tutti Sagan l'unico che è stato inserito perché effettivamente Sagan non è un velocista Sagan non è un velocista puro e una gara del genere quantomeno nel gruppetto di testa ci doveva arrivare se era un Sagan in forma ragazzi è arrivato parecchio dietro è arrivato molto molto dietro Trentin meno uno ci ha provato ma ha sbagliato i tempi dell'attacco e tra lui e Ulissi abbiamo preferito dare una minus a Trentin perché costa di più costa di più ma perché se non avesse attaccato avesse atteso probabilmente si piazzava perché questa era una gara da Trentino invece probabilmente ha esagerato nell'attacco precedente agli ultimi 3-4 strappetti ha sbagliato Godù meno uno diciamo è stata penalizzata praticamente tutta la gruppa ma diciamo a parte Madua che costava poco Godù Kung e De Marr tutti meno uno perché hanno fatto ridere onestamente cioè hanno fatto poco Matthews meno uno era uno dei favoriti di giornata ma perché tutti meno uno perché il problema è se Pogaccia si presenta a una gara di campionato Fantasaki in World Tour e fa cagare come ha fatto con tutto rispetto chiaramente si fa così per parlare a livello di gioco ovviamente Pogaccia se lì si dava meno uno a Pogaccia tutti gli altri erano zero perché Pogaccia costa il doppio di tutti anche se cioè è giusto come ragionamento anche se Matthews meritava meno due è giusto così ma Matthews meritava meno due assolutamente Demarra al limite perché veramente da favorito ha fatto veramente schifo quindi il problema è che se si dà a Matthews meno due Pogaccia gli dovevi dare meno tre e meno tre per una gara del genere è eccessivo però lo meritava cioè come capito cioè ci sta il ragionamento però se lo meritava uguale guarda anche se poi non tornava al conto ora tutto il giorno no però è andato un fuga però secondo noi ha sbagliato perché comunque purtroppo si è rivelato un attacco quasi inutile e secondo me poteva secondo noi non secondo me poteva riuscire è chiaro che se si piazza a Kamp se Kamp arriva terzo Trentino in teoria poi vediamo no allora è vero hai ragione De Mar è un velocista assolutamente il problema qual è è che De Mar era non da noi da tutti dato come uno dei favoriti addirittura Madiot il direttore sportivo aveva detto che la squadra in primis era tutta per De Mar poi se De Mar ha fatto bene tutta la settimana nelle corse in bergi che erano forse anche più dure di queste più dure di queste infatti era un formissimo e lo stesso il direttore sportivo ha detto noi ci punta su De Mar poi se qualcosa vi sta andando a storto allora ci abbiamo le seconde punte ha fatto cagare sia De Mar sia le seconde punte o meglio ci hanno provato non hanno fatto niente quindi mi correggo sul discorso dei velocisti vabbè dai vai avanti grazie ragazzi lo devo ricomprare lo so infatti l'autore è andata bene ragazzi è così in effetti De Mar cosa come Nizzolo ci sono invece sì va bene però ragazzi Nizzolo pensare come uno dei protagonisti di questa gara era veramente follia onestamente per chi comunque capisce un po' poi magari ti arriva terzo campo e dici cazzo potrebbe arrivare anche Nizzolo terzo vero però Nizzolo ha fatto qualche garetta prima di questo non lo so noi non credevamo verrà poi comunque anche lui calato vediamo le canadesi se anche le canadesi va sicuramente qualcosa perché c'è una delle canadesi è un po' più facile rispetto a Nantes quindi comunque sono gare da semi volata eh tipo questa via eh non è che siamo più difficili eh le canadesi allora poi andiamo nei top eh top molto molto facili ho dimesso i flop ecco lì allora Van Art più due ragazzi costa tantissimo e e costa sempre di più sempre di più e ragazzi ora io non l'ho visto costa sempre di più ma è una roba allucinante perché quest'anno è il corridore eh Fanta Points e sto guardando nell'app praticamente ha staccato di più di cinquecento punti Pogaccia cioè una roba allucinante ha fatto cinque mila 820 punti e attenzione la stagione non è ancora finita no Fanta Scorretto ha ragione in un certo senso ora magari dieci no però alla fine stagione poi verrà ridimensionato chiaramente sì assolutamente assolutamente purtroppo sai il prossimo anno potrebbe partire tra il quindici perché un meno uno cambia mica nulla capito se ti voglio dire cioè qui c'è dovresti far capito qui vanno riviste le valutazioni chiaramente tipo Grosso e Veg dell'anno scorso eh ecco sì vai vai comunque bene Lawrence più 4 Camp più 3 De Lì più 2 comunque bravissimo De Lì questo prossimo anno potrebbe essere un prospetto veramente interessante quindi probabilmente finirà io guarda sono veramente stupito dal ciclismo a volte come è assurdo cioè De Lì nelle gare in Belgio Piatte ha vinto quelle che ha fatto le gare quelle eh dove c'erano degli strappi più dure affaticati è arrivato ha regolato sempre il gruppetto dei battuti no e De Marra invece sembrava è sempre stato davanti in pratica no è stato davanti addirittura all'attacco poi oggi cioè si ribatta completamente cioè ma come cazzo fai cioè capisco ti voglio dire è difficile vai vai sì no ha ragione Fiorelli più due no ma anche perché De Lì non lo so oggi ha fatto una gran gara e mi ha sorpreso non pensavo io ecco tra i due pensavo che arrivasse De Marli davanti non De Lì assolutamente invece Gilbert e Campena io ti ripeto De Lì forte forte con grandi margini di miglioramento forse però in una squadra no ti dico però oggi gli hanno fatto un regalo se lo sono portato dietro salvatore se avessero aiutato non basta Van Aert un minimo anche in due o tre sarebbero arrivati in cinque o sei massimo De Lì non ci sarebbe stato poi vabbè Fiorelli altra delusione di oggi Fiorelli comunque complimenti Ghirmai io mi aspettavo qualcosina di più soprattutto visto che comunque era arrivato lì a giocarsi l'arrivo in volata visto che ha battuto Van Der Poel in volata vabbè ma Ghirmai aspetta un attimo però devi vedere anche il percorso che ha avuto da quando è rientrato è cascato sulle pietre è rientrato e l'hanno ributtato giù quella volta con Mozzato e Nizzolo anche lui c'è c'è un po' di botte alle spalle nel senso non è che è andato tutto liscio visto che è arrivato Binia in crescita è vero hai ragione Doc però visto che è arrivato lì mi aspettavo quanto meno ecco non essere tutto da Van Aert ci sta assolutamente da Fiorelli un po' meno sì è vero da Fiorelli di Campbell Lawrence da Delicistrada boh non lo so poi sai le volate a volte per dire sono spani a Ramburu secondo me oggi ne aveva ne aveva parecchio quando partivava Van Aert era sempre lì secondo me ne aveva poi come al solito lui non sa fare le volate poi non sa fare le volate ne è rimasto intruppato subito nel peggior modo nella peggior posizione dove si poteva metterci si è messo è rimasto intruppato ingabbiato e non ha potuto fare neanche la volate perché secondo me oggi Ramburu dietro Van Aert era velo più forte e non lo dico perché l'ho comprato complimenti a Piccolo perché comunque era in fuga si è staccato dai tre di testa Trattling ci ha provato e è stato bravissimo perché poi comunque si è prestato nei dieci quindi da da essere in fuga comunque a riuscire a fare la volate e piazzarsi nei dieci Piccolo visto che mi ha sempre criticato gli italiani invece per Piccolo ci sta a fare una nota di merito il Piccolo di questi ultimi di quest'ultimo mese non è niente niente male perché anche oggi oltre arrivare da dieci ti sei perso questa oh madonna è fuori fuori di melone no no è presidente verrà nominato presidente in orario il primo ottobre ci vuole un trofeo Baccani nel messaggio successivo c'è scritto sono per Lorenzo Luca infatti sono andato a comprarmi la camicia subito con i suoi soldi ah sono già arrivati si sono già arrivati ha subito preso ha preso in consiglio scommetto che dovete ancora parlare della vuelta si alle 22.40 si ma si fa presto siamo andati in ordine in ordine di categoria world tour siamo passati a partiti dal tour dell'avenir giro di germania campionato mondiale di mountain bike bretagna e poi la vuelta la parte più alta ma più triste è giusto partire dal fondo no vai vai no vabbè chiudiamo il capitolo appunto benjamin tomah bravissimo ottavo io vi dico una cosa nella lega del moulin in cui ho vinto la la bretagna visto i problemi con il giro di germania che anche io mi sono scordato completamente essendo in vacanza mi sono scordato completamente di quel bug praticamente ho preso sia piccolo che benjamin tomah perché non avevi soldi è il contrario di quello che ho fatto io che io invece ho risparmiato ho fatto lo squadrone anche costui eccetera costui e ho fatto schifo il discorso è che è bene non avere soldi e pochi scambi perché sei costretto a mettere gente come Indle io due anni fa che costava due al giro d'Italia dicendo vabbè farà qualche punto è lo stesso discorso per cui quello che ti dicevo sempre io che quanti ne devi avere di corridori quando eri io al grande giro nove nove perché se io ne avevo io Wein ce l'avevo dall'inizio se ce ne avevo se avevo fatto il conto che lui c'era ne avevo nove e lui l'avevo messo e ora fa 600 punti Wein lo sapete no? ma è fra mai a qua fra mai a qua un'altra vittoria di tappa o due traguardi eccetera eccetera non è che io ho preferito è che ecco io ti dico che io ho preferito e se ti dico che io ho preferito ora mi distruggo la testa nel computer chi è? no chi è? quel maledetto Miguel Angel Lopez perché ora vorrei dire un'altra parola non lo posso dire non lo posso dire non posso dire non posso dire la parola che mi viene vabbè Almeida l'avrei messo comunque non era quello il ballottaggio era su quello su cui non ero sicuro ma l'ho messo è quel maledetto inglese maledetto che però non posso dire la parola ma che sei Mojiet? Ethan Eater Ethan Eater che ragazzi che sola quel disgraziato il fratello di Leo lo scomparso lo sapevo ma più che altro cioè io ascolta uno deve essere coerente invece poi ti lasci sempre trascinare perché io avevo Vine dall'inizio non l'ho comprato dopo lo avevo nella squadra originale perché ho detto l'anno scorso ci avevo creduto la vovetta io l'avevo schierata anche l'anno scorso la vovetta e fece già benino no? e ho detto magari me lo ritrovo magari me lo ritrovo un fondo e hai voluto fare la squadra poi viene Eater Eater che va a crono va in volata invece dove va? affanso io voglio sapere in chat chi è che ha schierato il bidone qua? chi l'ha schierato? questo è un bidone altro che no McNart è capitano del futuro l'hanno detto non in campionato ho creduto in quasi tutte per mancanza di scambi in in Pedersen e comunque ragazzi cioè il discorso non posso dirlo perché ci chiudono il canale perché sono un politico e poi un'altra cosa nella squadra dove quella dove ti insidio Mullah sì però a te non vale perché te avrei fatto dieci esperimenti diversi quello che ti viene fuori adesso sono tutti uguali praticamente cioè nel senso una ti viene bene capito è quello la massa ho ottenuto massa e ho dato via a Eiter che l'avevo preso per il Polonia ho dato via a Eiter sì però ho capito in un'altra squadra no perché hai dato via lo fai in una non lo fai in una non lo fai in una ma non lo fai in una ma non lo fai in una ma non lo fai in una e così anche io farei l'esperimento perché perché non fa non fa le volate e quindi gli rimanevano quelle 4-5 tappe mosse e quindi ho detto visto che sicuramente nessuno avrà massa perché fa pietà io provo a mettere lui sì però te hai la tranquillità dell'alternativa che ti dà un'attesimo e ce l'hai l'alternativa no sei comunque lì abbastanza cioè c'hai l'alternativa almeno un'alternativa o due che ancora era solo un corso ce l'hai quando ce n'hai una sola e non c'è l'alternativa e fai la scelta ad oggi c'è Renko e Venepul 405 e Mats Peders e 399 quindi praticamente ha fatto soli punti di Venepul che ancora non ha vinto una tappa ma vincerà probabilmente domandato alla Crono San Bennett fermo cosa vincerà? a proposito di trasformazione di corrido a Crono ti interrompo ti interrompo no no ti interrompo a proposito di trasformazioni incredibili chi vince la Crono no ho letto un'intervista proprio prima della live di Mats Peders che è allora era campione del mondo per caso e poi vabbè qualche gara ora è improvvisamente velocista e quello va bene ci sta chi è questo? Peders semiscalatore perché l'altro giorno ha messo la squadra a tirare su una salita di 20 km e stava in terza posizione quindi semiscalatore semiscalatore Pancer stile alla Philippe sugli strappi dove sta dietro è perso solo da Roglic oggi leggo l'intervista che ha detto meno male oggi non sono andato in fuga perché almeno punto tutto sulla Crono voglio vincere voglio vincere vuole battere Dennis Roglic a Crono allora se Pedersen vince la Cronometro io la Vuelta non la guardo seriamente la Vuelta non ti ho detto il ciclismo la Vuelta non la guardo più ricordiamo quello avresti già dovuto smettere nel live parlando di altre cose canadese la Vuelta già a Moulin non avrebbe dovuto vederla comunque Italy ha fatto i soliti punti più o meno di aiuto 135 un commento Moulin questo nome c'è la Vuelta sta correndo il mio commento è questo JVine comunque 352 punti considerando che probabilmente un'altra fuga sicuramente la farà arriverà invece Moulin 352 Maia Pua 5-600 punti le fa di Pedersen ti sei dimenticato di dire che non farà i mondiali secondo me deve stare vicino alla sua moglie è vero è vero mamma mamma ascolta non lo sopporto più quello lì te lo dico non fa i mondiali Crono e Garelli hai detto che no perché c'è anche una famiglia non ho capito deve andare a mondiali è la raccone per cui il corridore deve andare a mondiali se scelta la famiglia la moglie no non ho capito mi invito andare a vedere le foto della moglie di Max Peterson dipende dalla moglie perché in effetti non è male però perché deve stare vicino la famiglia è incinta perché ha già corso troppo ragazzi la sua moglie è discreta si vede preferisco vincendo la staglia la solita ragione la famiglia di Tim Merlier che non fa più le volate non vince perché sta per diventare padre capito e quindi finito Tim Merlier finito ragazzi scordatevi il Merlier vincitore di pluritappe un arcano con la quick step vedrai ma io spero io spero per me sarà un flop così mi sbilancio e allora parlando della guerra ma scusa Mullah ma però Pedersen tu l'hai venduto non ce l'avevi l'avevo venduto molto prima si ma ragazzi ma Pedersen che faceva questa guerra ma chi cazzo te l'hai messo perché eri disperato ma chi se l'aspettava ma chi se l'aspettava Pedersen che facesse la vuelta che gli sprint volanti però scusami guardi in salita comunque è vero ora mi hanno ricordato una cosa mi hanno scritto si vede qualcuno che mi guarda la squadra no tanto per 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 intenderci no su questa situazione no ora vi faccio vedere la mia squadra della vuelta e voi mi dite chi ho messo come vincitore Premo che hai messo ha messo questa voce c'è già la maglia rossa rossa quindi di cosa si sta parlando io posso di cosa mi pare sui venipo io posso continuare a offendere quanto mi pare però quando lo metti vincitore perché qui si gioca a fantasy fantasy non siamo io non sono il ct della nazionale o il direttore sportivo della bolla il capo di cenere però perché me lo sentivo che sarei stato smentito purtroppo allora affrontiamo allora affrontiamo l'argomento allora finirà la vuelta con lo tattoo questo qui è fantasy ragazzi eh sì sì è vero ma Samuel di anche che tu volevi tenere Ighita che farvi vomitare ciclisticamente parlando alla vuelta ragazzi Ighita sarei contento lo stesso Ighita quest'anno quest'anno a questa vuelta era il la svolta o faceva bene nelle tre settimane da questa vuelta o se no Ighita non può far bene nelle tre settimane Ighita non è più da comprare per una gara a tre settimane ad oggi perché non è in grado nemmeno da una fra l'altra tra poco perché al Polonia sì è giovane è giovane non è male però non è più da comprare ragazzi ecco questa è la verità quando nelle gare da tre settimane comunque affrontiamo l'argomento bene allora ragazzi questo va a sodo quello che io capisco quello che diceva il Mullah l'altro giorno che all'improvviso cioè da staccarsi praticamente in tutte le gare che ha fatto da inizio anno su qualsiasi tipo di salita perché la verità è questa l'unica dove è andata un po' meglio mi pare al Giro di Norvegia però gli avversari non quelli che erano però il Giro di Norvegia no a parte gli avversari che sono quelli che vanno di più quindi il Giro di Norvegia intanto sale come come nel ranking nel senso come corsa rivelatrice per la guerra il prossimo anno guarderò il Giro di Norvegia e prenderò da lì no allora questo è vero allora bisogna innanzitutto chiedere scusa a Wein che l'altra sera l'abbiamo dipinto come un vincitore occasionale in realtà questo c'è una gamba allucinante perché c'è una gamba allucinante e se non avesse perso scusa ma io viner l'anno scorso ah io sono andato a rivedere la live dell'anno scorso e se vuoi ti mando anche la foto che viner era il mio nome jolly per la vuelta l'anno scorso e te l'avevo e te dicevi che te l'avevo rubato anche a te quindi ci crederai anche a te ci si credeva già l'anno scorso no l'altra sera se diciamo diminu screditato la vittoria di Vain dicendo che Veneppu non l'ha raggiunto si è detto che Veneppu non andava e Vain ha vinto questa è una gran gamba il fatto che Veneppu non l'abbia raggiunto è probabilmente questo che lui ha una gran gamba e probabilmente va in salita va come i primi pochino meno io dicevo solamente che non si era mai visto uno che non sta facendo classifica e sta con il gruppo che batte chi vincerà la voetta o roba del genere era solo un'osservazione sì nel senso poi su Veneppu chiude il discorso è ovvio cioè non c'è niente da dire è chiaro che va al doppio degli altri ora quindi due mesi fa non andava ora va al doppio degli altri forse hanno visto la madonna su quella salita norvegese però allora si è trasformato è completamente in arte corridore è dimagrito vedremo se riuscirà a mantenere il peso nel tempo quindi secondo te a crono ha perso allora no secondo me non ha perso niente perché va ha perso un po' di peso era un po' grasso un po' grassoccio troppo troppo non grasso nel senso per le persone normali grasso come aveva un po' troppo grasso come ciclista c'era quel quel chilettini così poi è nel momento della vita allora va il doppio degli altri complimenti bravo ti ho detto io l'ho anche messo vincente della Verte nella mia squadra quindi sono a posto quello che volevo far notare io e poi chiudo il discorso su Veneppu perché non c'è niente da dire c'è solo da dirgli bravo e vince è più forte chiuso che quando te guardi e vedi e ti accorgi che i rivali principali in salita ti sto dicendo i rivali principali in salita di Veneppu che comunque va fortissimo ripeto che comunque va fortissimo sono Mass che è un reietto perché è fino al final non ha finito una gara quest'anno non ha finito non ha finito una gara attenzione l'avvento non è ancora finita aspetta appunto al tour ha preso batoste da tutti era ridicolo al tour è passato un mese ridicolo io l'ho tenuto ci ho creduto aspetta e poi poi ci sono a Roma al dì due volte quattro il secondo anno fatemi finire il discorso se non si vede se non si apisce Mass un reietto offeso anche dal suo direttore sportivo per cui che l'ha definito un corridore inutile praticamente in quella in quella intervista perché era la verità perché dopo il tour era un corridore finito questo è quanto praticamente qualsiasi giro ha fatto una settimana cadeva lì era sfortunato però dopo il tour non era stato neanche sfortunato era solo finito e ho io non ho idea allora i rivali in salita sono Mass che ripeto è un reietto perché era stato reietto nel senso che era stato allontanato anche da un 2 cioè nel senso peggio di Ossia non si può e due debuttanti debuttanti a un grande giro eh ragazzi debuttanti a un grande giro di 19 e 20 anni è vero? sono due debuttanti di 19 e 20 anni e quello che sta vincendo la UERTA ne ha 22 no è quello che finisco è quello che ha vinto che vincerà la UERTA probabilmente ne ha 22 e anche lui è un debuttante perché il giro d'Italia che ha fatto bene non si può considerare un debutto in un giro di tre settimane lui non ha fatto un giro di tre settimane perché è stato un disastro anche per sfortune e c'è roba quindi lui quindi si rischia che se Roglic cede ancora i primi tre della classifica siano tre debuttanti in un grande giro dai 19 ai 22 anni 60 anni fate voi le vostre riflessioni fate voi io le riflessioni le lascio a voi VELTA non VELTA VELTA non VELTA il discorso è la VELTA la terza settimana della VELTA non è durissima se è commentata il mullà nel video andatela a rivedere sono due tre tappe un po' insidiose ma non è durissima non ci sono tapponi è una VELTA disegnata per uomini che sicuramente chi arriva nella top 10 di questa VELTA a parte ci sono grandi nomi ma non saranno nomi che potranno fare qualcosa secondo me in un giro duro o in un tour duro cioè premetto le meneput di questa VELTA va forte ma il percorso del giro e del tour sono un'altra cosa cioè il giro e il tour sono altre sono altre corse sono dieci pianeti più in là rispetto a questa VELTA che ha un percorso abbastanza ridicolo dal mio punto di vista dove presenterà altri tre o quattro arrivi in salita tutti in queste rampettine di garage tre chilometri dove non vedi realmente e dove non ci sono salite impegnative precedenti o poco ci saranno un paio di tappe e basta cioè non vedi realmente il fondo di un corridore sopra duemila metri con magari tre o quattro mila metri hai ragione hai ragione ma non in questo caso no questi vanno tutti io ti dico io ti dico se ci fosse una tappa con tre passi ti ricordi la tappa ve la ricordate la tappa che dovevamo fare la VELTA nel 2020 e poi saltò per il covid che era bellissima 136 chilometri c'era Portale aiutami eh non mi ricordo arrivavano su Pirene lei arrivavano sul Tourmalet c'erano tre passi erano 107 chilometri con tre passi e poi Portale era e l'altro Obisk e Tourmalet 135 chilometri tutti in quota spettacolo spettacolo assoluto poi non la fecero per il covid che fa l'altro andrebbe rivista è chiaro Moulasse ripensaci un po' che cancella comunque Venepul fa bene uguale e Venepul vince uguale lo sai perché perché le gambe sono queste 2005 ma chi è che a 2500 metri mettiamo questa tappa col Portale Obisk e Tourmalet chi è che manda in crisi Venepul che questi sono bolliti ma questi sono bolliti l'unici che vanno sono due bimbetti per vedere uno spesso di massa ci vuole parliamoci chiaro e Venepul di questi va al triplo io l'ammetto ma questi sono bolliti però cioè è un dato di fatto cioè l'unici che non sono bolliti sono due ragazzini due ragazzini non è che siamo passati così si può fare la tappa anche a 3000 metri si è detto però per le gare di un giorno va bene per i grandi giri bisognava vederlo adesso lo stiamo vedendo a questa vuelta ma questa vuelta vale molto meno molto meno di un giro o di un tour e questa vuelta più che altro ascolta lui ti devi premettere ti devi premettere che lui sta andando forte fortissimo va fortissimo ma quegli altri vanno piano questo è la cosa e questo è lo scarto che c'è lui va forte si è trasformato e è nel momento migliore della sua carriera e quegli altri fanno veramente schifo perché l'unici che reggono un po' il colpo sono Roglic che non si è ancora capito chi è chi non è a questa vuelta e altri due che sono due debuttanti di 19 anni ragazzi due ragazzetti i debuttanti i debuttanti di 19 anni probabilmente allora siccome questa vuelta non presenta chissà quali tappe probabilmente poi te li ritroverai in fondo alla vuelta lì davanti se fosse stato un giro normale c'è dove la terza settimana ansidiosa se si sente male mi senti ora mi senti ora si ti dicevo se fosse stato un giro classico dove la terza settimana è tosta probabilmente sia Ayuso che Carlos Rodriguez l'avesti persi ma per chi no ascoltati allora fai parlare l'avresti persi rispetto a chi l'ispetto a un mass questo mass è un mass classico della top 5 al tour e alla vuelta l'avresti persi rispetto a un mass che è già avanti che ho pagato 100 no l'avresti persi nel senso Almeida secondo me in un giro normale arriva tranquillamente davanti a questa Ayuso secondo me no Almeida non è buono te ne stai rendendo conto ora Almeida 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 no buono no buono no buono no buono Almeida Almeida un giro anche alla UAE credono molti in lui lo aiutano molto proprio uno spirito di gruppo in quella squadra oggi sentivo già parlare di Almeida Gregario di Ayuso però nessuno tira per nessuno lì Allora Soler fa cazzo di liquare Ayuso fa cazzo di liquare Almeida fa cosa li pare McNaughty è inutile come si dice non buono portoghese no bueno no bueno anche lì io ti dico che in un giro normale in un giro normale dove la terza settimana è dura mi sentite sentite si si ti sei bloccato una terza è dura vedi per esempio il giro d'Italia che è stato un giro durissimo alla fine sono usciti dei personaggi che comunque che comunque hanno un'esperienza è vero che ora ti metterai le mani e i capelli Ianilte e Hugh Carty sono top 10 quasi horror quasi horror ma questa gente qui viene fuori perché è un giro duro e la terza settimana è dura e gente come Rodriguez e Aiuso che sono giovani ad oggi non te li ritroveresti a lottare per il podio in un grande giro magari fra un anno due tre non oggi allora io ti voglio io per ora ti voglio ribaltare la questione così ve lo dicevi si diceva già oggi in chat questo è figlio di un percorso abbastanza ti posso dire una cosa ti posso dire una cosa sì il percorso allora il percorso aveva ragione te io so quando si fece il video ero più moderato invece avevi ragione te il percorso non è no 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 come o no 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 come no 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 anche questo è vero anche questo è vero sì è vero però io ti è vero però io ti parlo siccome non voglio ora passare voglio fare ora voglio invertire la questione ripensate ripensate oggi voglio fare ora il difensore invece della voetta e di evento faccio un po' una parte una parte e anche un po' l'altra per essere per cercare di restare nel mezzo ripensate oggi ai primi 6 7 8 del giro d'italia e qui mi spengo no in realtà quei 7 8 del giro d'italia in terza settimana andavano il problema è che questi 7 8 della vuelta hanno sì nomi altisonanti ma non vanno è questa la differenza se te metti Janir del giro d'italia da 2 minuti a Roglic su una salita ad oggi a questa vuelta è questa la verità ho detto Roglic a caso potrei dire un altro è questa la verità è inutile di stronzare io ho riguardato la top 10 del giro d'italia oggi oggi e mi è preso un attimo di sconforto tipo un mezzo svenimento poi magari mi sbaglierò perché uno magari devi vedere ogni corsa a sé però oggi riguardavo la top 10 del giro e ho avuto un mezzo svenimento ho avuto un giramento di testa ingle e carappà ingle e carappà allora questa cosa che ha detto Giuseppe è verissima è dalla motivazione ma ascolta Indri ti ripeto agli uso e carappà fai parlare sì ma te 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 avevi detto che c'aveva la luce negli occhi poi allora l'avevi sponsorizzato ma prima dicevi che era uno del 2020 allora a giro dissi che io li vedevo la luce negli occhi cosa che non ho detta alla vuelta ma comunque questo non è l'Indri del giro questo non è il carappazzo del giro ragazzi sono ciclisti diversi da questa vuelta sono ciclisti che sono qui in del forze per fare top 10 a carappazzo non ne frega un cazzo e si sapeva che sarebbe andato così e a me fa ridere carappazzo ora arrivo sul tema carappazzo che tutti i giorni mette foto su instagram che dice eh dai giorno dopo giorno giorno dopo giorno cosa stai facendo cagare lui sta prendendo per il culo scusa non so se capite tra l'altro avete notato che è bene poi io ti parlo sopra perché io non ti sento non so se voi lo sentite io lo sento bene perché io lo sento a tratti sembra che ti affermo no ti vedo sgranato solo te però loro no ti vedo sgranato e ti sento comunque per event il carappazzo è pericoloso visto che oggi ha fatto uno scattino inizio tappa è andato a riprenderlo personalmente non so se avete visto la scena si queste energie sprecate perché poteva anche lasciarla andare andato a riprenderlo quando avrà preso un'ora poi lo lascerà andare penso a parte secondo me carappazzo si ritira presto assolutamente assolutamente io sono d'accordo con te su me non la finisce sta guerra no possiamo guardare i primi 4 della classifica del giro d'italia che hanno provato a fare la coppiata giro vuelta come sono messi in questa vuelta sono messi di merda ma no non hanno provato no 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 qui mi corrego qui ti corrego non hanno provato a fare la coppiata allora carappazzo ce l'hanno mandato ma lui ci ha già contratto firmato con le F e ne frega un cazzo si sapeva che c'era questo rischio perché carappazzo l'ha già fatto e allora cosa l'hanno mandato a fare secondo loro non lo sanno che lui non ha fatto una preparazione perché carappazzo è questo l'ha già fatto con la Movist e allora l'ha già fatto con la Ineos all'ultima gara quando c'è già il contratto firmato con un'altra squadra arrivederci l'aveva già fatto e l'ha ripetuta questo è carappazzo e si era detto e si è preso e si era detto e si è preso perché siamo stupidi questo è è proprio la dimostrazione io l'ho ceduto il campionato carappazzo ho preso roglic parte l'hai ceduto ma da quando ce l'avevi carappazze l'avevo ripreso per il polonia ecco quindi sei stupido uguale no perché hai spiegato due cambi nemmeno però più scambi di te l'hai preso per il polonia dove ha fatto schifo e poi l'hai anche rivenduto più scambi di te gioia sì ho capito ma renditi conto che la famosa non è sì ma quello sì però Mullè è avanti anni luce però io ti sto dicendo che comunque anche te non è che hai brillato tutte le esperienze l'hai l'hai comunque comprato per il polonia dove è stato ridicolo e poi ti è toccato rivenderlo quindi sono due cambi per 0 punti scusatemi scusatemi però poi alla fine ho deciso di toglierlo prima della la Ignos che sa di questa cosa non ha un altro corridore da mandare al posto di carappazze no ma allora lui e loro l'hanno mandato al polonia per fare classifica con Eiter e magari al polonia lui aveva una gamba mi è arrivato lì quattordicesimo e magari pensavano che a un po' d'altura un po' di là la vuelta facessi bene mentre questo ci fa capire che ti può preparare quanto ti pare per una gara ma la testa del ciclista fa il 50% carappazze quando l'ha già fatto in passato quando c'ha il contratto firmato la testa la spenge puoi avere le gambe che ti pare questo non va di testa ha vinto un giro d'Italia perché ha fatto il furbo ha approfittato di Roglic e Nibali ha vinto un giro d'Italia così e ora fa cagare sempre per il solito motivo sì ma lo fa quasi sempre praticamente quindi ce lo segniamo sul blocchettino nero non è che ce lo segniamo carappazze è finito dai comunque guardando abbi il coraggio di dire secondo te cosa farà carappazze nell'EF seriamente secondo voi però come Chavez dai seriamente voglio un commento da tutti voi qualcosina cosa vuol dire qualcosina tipo un podio in un grande giro ci sta che lo faccia secondo me non è in grado di vincere un grande giro d'Italia che dico voglio tutti voi che mi sbilanciano un podio alla welta al giro lo fa al tour non è più in grado se non è con i rivali che ci sono oggi però al giro al tour qualcosa fa al giro alla welta scusi voi comunque io concordo con lui al giro d'Italia il livello è quello di quest'anno un podio ce la può fare il carapazzo in forma non quello della welta io ti dico carapazzo alla EF poi in forma non si può sapere un carapazzo in maniera decente no e Bertha ti dicevo Indri che prova a fare l'accoppiata Indri non ha fatto l'accoppiata Indri è già grato grazie al signore ha vinto un giro d'Italia gli cambierà la carriera e quest'anno è andata la welta così non ha dichiarato un cazzo non ha dichiarato vuole fare la doppietta poi chi ha capato l'Anda è sei mesi ma ci avranno bene avuto il tempo per preparare questa welta ma l'Anda quando ha fatto il suo pudino al giro anche l'Anda scusa come puoi venirmi a dire non farò classifica appunto una tappa ma quale tappa ma poi la tappa deve arrivare ascolta l'Anda per vincere una tappa deve arrivare da solo ieri mi ha fatto veramente tenerezza per arrivare da solo devi avere la gamba quindi questa cosa si contraddisce allora cosa hanno fatto cosa hanno fatto niente non avevano il tempo di prepararla questa welta comunque sulla Bahrain io non ne voglio parlare tutta la gente del giro è andata alla welta giusto perché la squadra gliene ha imposto o per ambizioni personali di vario tipo non quella di vincere la welta Nibali è andato qui è venuto che è quarto del giro per vincere una tappa e chiudere la carriera stop l'Anda ha fatto podio al giro d'Italia dopo anni e basta la sua carriera ora finisce qui ne importa una sega alla welta poi l'ha fatto cagare Indri te l'ho detto prima Carapaz si è detto prima poi chi è il quinto del giro no vabbè basta no che ha fatto la doppietta che voleva fare la doppietta ha detto il bietto c'era 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 Il c'era il quinto Bilbao Il Bilbao non c'è andato Bilbao ha cambiato carriera addirittura Irt è andato lì ha preso il covid è stato 4-5 giorni in coda al gruppo e poi aveva il covid probabilmente da 4-5 giorni in qualsiasi staccava in pianura cioè non è è vero è vero è vero non è che al giro d'Italia c'erano gli scandalosi è che al giro d'Italia c'è arrivata gente che ha preparato il giro e a questa welta c'è gente che non ha preparato la welta e questa è la differenza quindi nomi non altisonanti al giro d'Italia che però hanno preparato il giro vedi Nibali quarto ad esempio Nibali ha un altisonante però se guardiamo gli ultimi due anni di Nibali sicuramente non ha il solito palmarès di non so Roglic non per di Nibali però è arrivato quarto al giro ad esempio perché l'ha preparato come hanno preparato il giro Indri Carapaz Janir è venuto fuori a terza settimana uguale a Junkarti eccetera eccetera qui c'è gente all'alberta secondo me invece ti chiedono a te Fede chi corre la welta per vincerla oltre ai Veneto ovviamente Simon Yates per esempio allora Simon Yates è una delusione è una delusione ma ditemi quando non ha deluso Simon Yates quando è che ha fatto podio al giro ha fatto podio al giro di Bernal l'anno scorso l'anno scorso che era una mezza delusione però quasi il podio perché era il favorito numero uno che si arriva al gioco con Bernal ha fatto un podio c'era Bernal Caruso e Iates però cioè comunque non era così scazzo come ora Ermo ti ricordi un Yates scaripante in salita o un Yates che ha dominato ha vinto la vuelta ha vinto la vuelta quattro anni fa io non lo sento non ti sento non ti sento si blocca quattro anni fa quando l'ha vinta la vuelta quattro anni fa mi sembra sì vabbè quattro anni per un ciclista è un'eternità quattro anni per un ciclista eternità vabbè poi chi c'è che corre la vuelta per vincere Yates è un corridore che magari un anno tipo guarda che Yates non è ancora fuori classifica a questa vuelta attenzione dai arriverà lì in quel modo lì il problema è che è un giro atipico questo qui è un giretto è un giretto non è un grande giro è un giretto è inutile vabbè ora non esagerare dai non esagerare non è il percorso va bene ha ragione è scadente però non è quello il problema viene pure più forte però però non è il percorso se mettevi le tappe allora secondo me per come stanno ora questi partecipanti i primi dieci più mettevi tappe dure più accumulava vantaggi bene io la vedo allora mi chiedevano chi ha preparato la vuelta per vincere no? allora sicuramente Yates non è un uomo da classifica e questo si può dire lasciamo per ormai si è capito ok Roglic non mi potete dire che l'ha preparata perché fino a due settimane fa non sapeva nemmeno come era fatta una bicicletta cioè rimontato sopra due settimane fa io mi sorprendo che sia ancora lì Roglic però quando Contadori al tour gli chiese allenamento lui disse preparazione per la vuelta sì 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 mi ha ricordato l'intervista in corsa su aerosport il Contadori che gli chiese come va oggi insomma lui prepara allenamento training for vuelta rispose sì sì ironico fino a un certo punto sì sì poi vertebre rotte ma vabbè lasciamo perdere quindi Roglic l'ha preparata in parte Mass non l'ha preparata particolarmente il problema è che Mass se non fa bene ora questa vuelta veramente lo licenziano quest'anno quindi Mass ha una pressione addosso che deve far bene per forza sì ma guarda di solito la pressione non è che non è che ti aiuta non è che ti aiuta non ti aiuta lo so ma è questo questa è la verità questa è la verità e e poi chi c'è poi c'è questi giovani all'improvviso che sono usciti fuori dal nulla come Rodriguez e Aiuso che io non so realmente cosa hanno preparato se sono fuochi di paglia se si staccheranno domani l'altro non si sa non si sa questa roba però che io vi ripeto per l'ennesima volta sono più sorpreso di vedere i due 19 anni lì davanti a giocarsi un po' della vuelta alla tappa 9 che non Janirte e Jukarti che rientrano in top 10 la terza settimana in giro d'Italia vuol dire che c'è qualcosa di ma guarda Jukarti rientra anche ora in top 10 per dire per dire per dire che secondo me questa vuelta e siccome la terza settimana si è analizzata e non è così dura riserverà delle sorprese che possono anche far male alle carriere di questi corridori perché un corridore a 19 anni che ti fa un po' della vuelta cazzo domani vincere ma questa vuelta non è un grande giro a tappe come si chiama un grande giro a tappe è una gara di tre settimane difficile ma con delle rampe di garage per ora e nel finale questa è la realtà si arriva a Sera Nevada dove c'è praticamente una salita in quella tappa una e mezzo purtroppo nella tappa di Sera arrivata era bella se prima facevi altri due call di prima categoria non hai citato un nome ma questo prescinde da Evenepu perché Evenepu la vince stavolta stavolta vinceva uguale anche se arrivavano a 6.000 metri sull'Himalaya è uguale il portoghese è partito per vincere almeno esatto questo nome vediamo alla crono perché se alla crono lui recupera un minuto un minuto e mezzo su Aiuso Carlos Rodriguez lui rientra per il podio oggi si è staccato a 50 km Matti l'ha vista oggi la tappa si è staccato a 50 km dall'arrivo poi è rientrato non ci sa come anche oggi alla prima cosa c'era ragazzi è vero l'avete vista qualcuno in chat l'ha vista si era staccato addirittura dopo 50 km se era già staccato su tipo a metà era andato in difficoltà queste cose poi è arrivato lì comunque a due minuti dai bene Pulo oggi non ha preso un quarto d'ora Almeida secondo me c'ha qualcosa che non va quest'anno noi ricordiamoci ha preso il covid che per qualcuno è stato banale per qualcun altro no quindi potrebbe essere anche una spiegazione quella staccato sull'attacco di Soler tra l'altro c'è qualcosa di strano comunque un corridore è un diesel è un diesel è uno che comunque comunque ci dice per esempio Davide ci dice basta sminuire la vuelta almeno i migliori danno battaglia allora a parte che il percorso è classico da vuelta ma io sapete cosa ho fatto in questi giorni per curiosità sono stati arrivati tutti i percorsi e di tutti gli ultimi anni della vuelta tutte tutte le attimetrie è vero che è il classico percorso da vuelta ma è un po' peggio punto uno forse un po' troppo peggio e poi chi è che sta sminuendo la vuelta sono quei corridori come Carapaz come Indley come Landa come Almeida o altri che si sono presentati con una condizione ridicola e loro stanno sminuendo la vuelta loro stanno facendo passare la vuelta per un giro cadente è colpa sua perché questa gente qui se non è in condizione di far niente come Landa deve stare a casa o andare a fare il giro di Germania come ha fatto Bilbao è la verità o Bardet o Bardet che chiaramente c'è gente che ha detto ho fatto il giro ho fatto il tour non ce la faccio stai a casa ma come O'Connor non si è parlato neanche di O'Connor O'Connor hai già fatto le figure di merda al tour de France hai bisogno di fare le figure di merda altri 21 giorni anche alla vuelta cioè non ho capito io ti devi far conoscere da francesi dagli spagnoli che sei un bidone è questa la cosa se quest'anno non vai e c'hai dei problemi vai a fare vai al giro di Germania il tour du limousine il tour del lente attenzione abbiamo una sorpresa good evening good evening Ben O'Connor live with us ma non è un'offesa un'offesa la fanno sti corridori via la volta perché te ti presenti lì fai anche i discorsi i dichiarazioni e poi vai piano che ti passano non lo so anche un un dilettante cioè allora stai a casa vai al tour du limousine guillain martin che si è sempre criticato che si è sempre criticato e si è a guardia preso un giro è un uomo con dignità perché lui non ci è andato alla vuelta no però è la confidista che non l'ha fatto andare è uguale comunque è andato al tour du limousine questa roba qui to the land sta roba qui vai a queste corsette francesi te le vinci fai punti aiuti la squadra è inutile andare a fare le figure di me da giro per il mondo ragazzi io la penso così comunque quattordicesimo c'è Valverde che ha 42 anni dico solo questo e che non doveva fare neanche i classifi pensi che si ritrova lì Ghiogenhardt oggi ce la posso fare Sivakov decimo ma un grande Miguel Angel Lopez con la forma che si ritrova e lui non l'abbiamo mai visto ma è lì ma è lì ottavo Almeida vedi oggi con la complice Ghiogenhardt che perde posizioni comunque è settimo a 4 e 32 e secondo me ora vediamo vediamo se succede Almeida magari giorno di riposo non lo so magari poi si ritira anche però aspettiamo a giudicare Almeida primo italiano Pozzovivo 22esimo Jukarti 5 e 58 Padun 17esimo a 7 e 47 Padun Gino Mader altro corridore perché sta correndo questa vuelta ce lo chiediamo un po' tutti 8 e 15 Rigoberto Urano 8 e 42 Ghiita 9 e 45 Vilco Kelderman ne vogliamo parlare anche lui vale il discorso di Carapaz praticamente io ormai sono in polemica totale su tutto io mi chiedo perché se te sei Kelderman no Indri va bene che Indri non punterà mai al podio di Ostauert ma quando hai capito che non vai per niente proprio per niente per niente che ti devono spingere per le salire ma perché nessuno fa più il gregario questa è una cosa che io non riesco a capire qualcuno me la dovrà spiegare un giorno perché non non aiuti Indri no spiegatemelo voi ve lo chiedo a voi capiteci nel 2020 perché nessuno cioè partono in 4 capitani ma perché quando esce come Gita nessuno aiuta più nessuno al giro al giro perché raga parliamoci chiaro parliamoci chiaro la Vuelta è il terzo e poi si può di tutto e le vi pare Asola trasformata nel secondo la Vuelta è il giro d'Italia e nemmeno il Tour de France e uno non ha voglia di spremersi perché i premi che danno alle squadre il prestigio che dà la maglia rossa non è minimamente paragonabile né alla maglia rosa né alla maglia gialla e quindi la gente finissi per uno che arriva quarto o quinto gli importa una sega che è per aiutare Indri che arriverà quinto o sesto non ne frega un cazzo ma cosa voglio non ne frega niente ma che è una scelta personale ma qui c'è una squadra anche la squadra anche la squadra alla Vuelta sono tutti allo sbaraglio è sempre stata una cosa fermata per un'altra squadra per cui cosa ti costa ma te te lo rivolgo l'anno scorso Lopez che casino successe l'ultima tappa ma tutti l'anni all'ultima tappa succede la Vuelta perché è una gara un po' folle bella anche per questo ma è folle anche perché i gari ci sono non ci sono è sempre stata si è la Vuelta ti riguardi Dumoulin che ha perso la Vuelta l'ultima tappa però la Bora parti con 3-4 capitani eccetera eccetera quando vedi che esce di cazzi ho capito che Indy non viene vincerà e non è che ha bisogno ma perché non i ghiita i ghiita e chiede ma quando fanno le riunioni cosa gli dicono ma perché la UAE cosa diano a Soler che va a fuga il premio Jair Ormetti della Vuelta sarà difficile da consegnare quest'anno ce ne sono talmente tanti che non tirano non fanno i ghiita cosa sta facendo oggi ha fatto malissimo fino a ieri era 13esimo 14esimo faceva la sua pseudo classifica poi si è scoperto come tanto si sapeva che più di una settimana questo un regge e infatti oggi l'ha presa secca ma ora perché non potrebbe fare il gregario l'unico che sta facendo il gregario è lui in questo momento alla Filippo pensa a te ma alla Vuelta scusami Mulla da quando è giudicabile come grande giro dove te vedi veramente il valore di un corridore io mi viene perché sono tutti valori pompati quelli che è Scandavuelta l'unico che mi ricordo negli ultimi anni è Pogaccia che arriva secondo perché poi Roglic te ne vince tre di fila e poi però io negli ordini d'arrivi dei grandi giri non lo trovo negli ultimi anni giro e tu non si trova Roglic complici cadute va benissimo cioè si trova sì secondo dietro Pogaccia tre anni fa però non ha vinto nient'altro oltre la Vuelta poi cosa c'è Simon Yates ha vinto altre quello e poi magli gialli e rosa io non le vedo per Simon Yates poi chi c'è non lo so Massa ha fatto bene ho capito io ti dicevo un'altra cosa perché te ti concentri sulla Vuelta ma io ti dicevo secondo me questa via è un po' una tendenza perché per me stiamo dando troppa importanza a questa no ma secondo me no ma non ti sto dicendo che hai ragione ma io ti sto dicendo che questa tendenza non mi sembra che sia solo la Vuelta mi sembra che stia diventando un po' un'abitudine questa via cioè secondo me le squadre prendono corridori e probabilmente quando firmano il contatto prendono accordi diversi accordi che io non farò le gare ma ho suggerito un nome ora con tutto rispetto per Fabio ma Fabio Aro ha vinto solo Vella cioè quando un corridore Simon Yates ha vinto solo Vella Roglic ha vinto solo Vella quando ci sono corridori che vincono solo quella gara lì e nient'altro non ci sarà un motivo non lo so domando ci sarà un motivo perché un corridore poi non riesce a vincere le altre due gare importanti o andarci quantomeno vicino a parte Roglic che c'è andato vicino e basta però Aro un giro se l'è giocato ma poi non è mai stato in grado di lottarselo fino all'ultimo secondo e l'ultima tappa parliamoci chiaro Horn bravo ecco chiusa parentesi ma e quindi voi mi dite che e Vanderpool se fosse andato con questa forma al Giro d'Italia non avrebbe non avrebbe vinto sì se dovessi avrebbe vinto cioè per me avrebbe con questa forma avrebbe vinto in carrozza anche al Giro d'Italia questo è bene questo è bene se la poteva giocare però io ce lo voglio vedere con tre quattro tappe con quattro mila metri di sliver quella del blockhouse quella del mortirolo quella della marmolada aspetta qui comunque secondo me non ci si capisce perché te hai ragione su quel discorso del percorso ma te devi capire ma contro chi perde perché il percorso il percorso può essere anche può andare anche sull'Everest ma se tutti fanno schifo parliamo di VAT i VAT di Indle e Carapaz al Giro d'Italia all'incirca erano quelli di Evenepul dell'altro giorno o di Vine dell'altro giorno 6,5 VAT quelli che dicevano hanno fatto 6,6 sono quelli che ha fatto l'Indle ma non valgono VAT dai io non sento parlare di VAT mi deprimo perché le corse sono corse che ci si corre accanto e uno vince e quell'altro perde è inutile VAT cioè se io ti stacco te vai in crisi poi VAT non le fai più cioè l'Anda non era bollino anche al Giro l'Anda sicuramente è un terzo posto fatto perché il quarto era Vincenzo che cazzo se Vincenzo faceva un podio a Giro con l'età che ha era storia chiaramente quindi è normale che l'Anda avesse quel qualcosina in più diciamo è arrivato terzo perché dietro probabilmente c'era qualcuno che non riusciva insidiarlo però ragazzi per me il Giro è stato corso da corridori in forma e Vene ce lo vediamo bene questo Giro d'Italia per amore del cielo però magari io lo voglio vedere la terza settimana il Giro è arrivato quarto Nibali il Nibali di adesso infatti infatti io sono io li voglio vedere però ragazzi è arrivato quarto Nibali cosa ha detto Pidcock che tutte le volte c'è Damiano Rossi Pidcock ha detto ha detto prima di avere oggi un crollo clamoroso anche al campionato mondiale di mountain bike perché oggi è andato in crisi come un bambino prima di questa crisi vergognosa ha dichiarato che pensa di poter vincere il Tour de France a breve ecco addirittura a breve cioè nei prossimi anni pensa di poter vincere il Tour de France direi di andare alla guetta magari di provare prima con la guetta se trova l'anno in cui non c'è nessuno in condizione magari è ancora più dimensionato vedendo cosa sta facendo io sono di queste idee io no secondo me qua si diceva prima alla guetta c'è gente che di questi dei primi 15 la metà è fuori condizione Roglic è invalutabile per tutto il discorso che è successo prima e Venepul è tre gradini più sopra gli altri quindi anche lui è difficilmente valutabile perché non ci sono avversari degni di nota se non due giovani di 19 anni che hanno i limiti della loro età chiaramente e sono ancora lì e saranno ancora lì secondo me per un altro po' di tappe perché questa vuelta non è così dura si sono da valutare nell'ultima settimana ma l'ultima settimana di questa vuelta fa cagare fa cagare è una terza settimana di merda comunque sai le fatiche si accumulano le fatiche si accumulano ci sono due arrivi in salita è vero che non sono saliti impossibili bravo ma un conto mi accumuli la fatica della tappa del blockhouse della tappa del mortirolo della tappa del menador e poi arrivi sulla marmolata e la pigli secca un conto è prendi la fatica di 3-4 rampe di garage e poi arrivi all'ultima tappa dove c'è praticamente 4 salite in media 5% perché questa è l'ultima tappa della vuelta 4 grampe di montagna tra 5 e 6% lunghezza 7-8 km ciascuno ovviamente oggi ho fatto il jau il jau mi lega nelle scarpe se fanno una volta il jau ne escano quei 10 che sono in classifica la vuelta arrivano a un quarto d'ora dai bene se fanno oggi il jau domani per dire è una vuelta invalutabile ragazzi è inutile il percorso è tipico da vuelta ma come ha detto il mullah prima al di sotto del tipico dal mio punto di vista quindi il giro le fatiche accumulate vedi Carapaz che è andato piano sulla marmolata è perché ha accumulato le fatiche e Indri invece è uscito alla distanza ha fatto il furbo e ha fatto molto bene perché poi ha vinto qui c'è le fatiche sì hanno 19 anni poi alla fine anche queste rampe di garage alla fine poi le pagheranno Aiuso e Rodriguez in teoria in teoria ma non è il giro d'Italia non è il tour de France Remco ha avuto la preparazione migliore di tutti quelli che ci sono lì davanti nel senso che ha potuto preparare la vuelta con tutta tranquillità è l'unico che alla San Sebastian andava forte e tuttora sta andando forte Yates andava fortino alla San Sebastian e ora fa cagare cioè quindi cioè paradossalmente cazzo ma Yates non sta preparare un grande giro mi sembra impossibile il giro d'Italia però l'hanno corso a maggio cioè da giugno ad agosto fine agosto ma non hai il tempo di provare la vuelta ma guarda che due giri a tappa nel solito anno ragazzi non so capisco che sono vicine ok ma il giro è finito a fine maggio faccio un esempio l'esempio di Bernal Bernal quando ha vinto il giro è andata alla vuelta se non sbaglio e non ha vinto ha fatto fatica a arrivare 5 non dico l'ultima settimana è andato male per dire non è facile fare due giri è più difficile fare storicamente con questa disposizione del calendario giro vuelta che non tour vuelta la verità è questa Roglic ha fatto seconda al tour e poi ha vinto la vuelta ad esempio sì ho capito ma perché cioè non c'è una spiegazione logica perché non lo so perché perché probabilmente per il corpo è difficile gestire due giri da tre settimane a distanza di due tre mesi non lo so perché bisognerebbe andare a capire perché è difficile fare la doppietta mi pare chi è che l'ha fatta l'ultima doppietta al giro vuelta nemmeno Nibali l'ha mai fatta perché Nibali quando vince il giro poi arriva a secondo dietro Horner non è facile e non era un Nibali stralipante a quella volta mi ricordo quindi non lo so perché è complicato avere due picchi di forma nello stesso anno sì infatti secondo me tour vuelta essendo molto più vicine magari fare un buon tour ti porti dietro la condizione alla vuelta fai una prima settimana un po' più soft e poi non lo so sto ipotizzando non lo so non era in condizione alla vuelta eppure aveva le palle di attaccare ogni giorno quello perché qui si parla di un corridore di uno spessore diverso perché il Bernal non è Simon Yates non è Landa non è Almeida non è Indri cioè Bernal è un gradino sopra ragazzi e quindi pur non avendo grande condizione attaccava anche se poi alla fine non è arrivato a podio nemmeno quinto sesto non arrivò Bernal andò meglio Yates mi sembra Contador 2008 credo ecco se Contador 2008 è l'ultimo che ha fatto Giro Welda sono passati ragazzi 14 anni e questo è un fenomeno questo nome è un fenomeno vabbò dai abbiamo sviscerato un po' di temi si è fatto un po' di polemiche come sempre comunque il mio punto di vista è questo ferma lì non pensate di chiudere la live perché prima c'è da vedere una cosa importante la classifica OCI che ormai è definita mi sembra a meno di miracoli e poi una cosa sulla classifica no ma una classifica è una cosa che ho scoperto all'Archea non gliel'hanno mica levati i punti di Quintana l'avevano levati i primi giorni ma non gliel'hanno levati perché l'USI non ha levato ancora i punti di Quintana si vede aspettano il giudizio del TAS cioè l'Archea ora era andata a 14.200 senza i punti di Quintana ora è tornata a 14.600 quindi i punti di Quintana al Tour nonostante non esistano per il momento ci sono nella classifica triennale quindi sicuramente andrà avanti non lo sapremo chi è il retrocesso o no dipende spondiamo tutti a questa domanda visto che Bernal oggi si è ritirato dal giro di Germania non è partito secondo me no io ho sempre detto ma magari mi sbaglio come il suo Ebene io spero spero di sì ma è un 60 no 40 sì vedendo Froom vedendo Froom anche se è più vecchio la vedo dura difficile dire ancora presto aspettiamo però Ebene con fattura del bacino non è però uguale non è uguale cioè Bernal è più paragonabile a Froom è stata banale eh ragazzi e poi Ebene però era molto 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 giovane molto molto io io aspetterei aspetterei un po' ragazzi vediamo quant'anni ha Bernal? mi pare 26 non so ragazzi in chat aiutatemi 26 anni Bernal 25 siamo un po' in chat cosa dicono? sì è probabile ma purtroppo Robic non è al 100 25 non è al 100% e forse è in calo assolutamente un 97 quindi 25 anni non un 26 c'è l'ultimo anno di maglia bianca quest'anno comunque questa è la classifica vuoi vedere i tre anni? ma Moulin l'Archea senza i punti di Quintana dove finirebbe? a 14.000 dov'è? non la vedo è a 14.900 no le avevano 600 punti 14.300 praticamente sono 600 punti quindi 14.300 insieme a Marco Fidis sì sarebbe sempre comunque abbastanza fuori per ora per ora allora la Movistar è ufficialmente in retrocessione se Mass non fa fuori ecco perché vedi perché Mass sta dando tutto ma ti pensi che si facciano per forza se a te ti dicono se domani non fai il Serra in 12 minuti come Berzin ti si ti si scusate non è non lo fai mica come no 18 no è vero 19 scusate sì sì ho sbagliato io sì ma allora ragazzi la Lotto eh deve difendere 600 punti non mi sembrano pochi non mi torna sta che Sv è sicuro vai un po' sull'anterne rouge perché lì è aggiornata giorno per giorno fammi sto favore magari è così poi dopo dice una parola sugli italiani su questi risultati di Battistella Zambanini che in effetti non si è detto niente sì quella è lì questa sì poi bisogna chiudere perché c'è da registrare a Bike Channel dai ragazzi questo fa un minuto eh è questa lì la Lotto a 13.847 lo vedi che lo vedi che non torna scusa quindi a quante è aggiornata sta vedendo eh oggi il 28 no alle 21.35 quindi non torna ora questa va bene io non so quando la giornata si c'è scritto ah ok c'è scritto guarda a quindi è questa che mi sembra la più corretta la Lotto vedi è molto più vicina alla Movistar perché oggi ha fatto e c'era Bura ha fatto schifo e quindi però il discorso è che se Massa arriva nei 5 della Vuelta almeno nei 5 in teoria la Lotto non la ripiglia la Movistar però se te è l'unica squadra spagnola secondo me c'è la F anche non lo so se te levi questi 100 punti all'archea va a 14.000 precisi va sotto la Movistar addirittura e quindi non lo saprai fin quando Quintana non avrà il risponso che casino perché lui se hai non prende una decisione cioè se il tour te l'ha levati ma te non le levi alla squadra è questo che non 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 cioè come finirà secondo voi come finirà in tribunale anche questa battaglia per la retrocessione a meno che l'archea non trovi dei risultati improponibili in finale scusatemi un attimo però aspetta un attimo vai nell'altro sito l'archea come faceva essere a 14.800 perché cioè cosa gli hanno levato dei punti no era lì non gliel'hanno levati ti dico che non gliel'hanno levati com'è che guarda nel sito di prima qual'era cycling fiber com'è che era no cycling no first cycling sì ma lì non torna non torna sì però aspetta io ho messo una cosa strana ah ah cassifiche ma quelli hanno avuto probabilmente la recensiranno vado l'archea aveva 300 punti in meno ascolta l'anterna e luce è un sito affidabile e lì la aggiornano tutti i giorni giorno per giorno quindi io mi fido io mi fido mancava 300 punti alle antenne luce mancava 300 punti non vorrei che alle antenne luce avesse già levato i punti di kintana no perché quando avevo visto io i primi giorni che la levarono era andata a 14.200 sono 600 punti di kintana sei sicuro che sono 600 punti e non solo 300? eh ma magari ne ha fatti qualcuno questi giorni ma è l'unica si è piazzata è possibile non sapere questa è possibile che si è piazzato nelle seconde mcclay ha fatto ha fatto dei piazzamenti magari l'antenna non l'ha aggiornata ipotesi ma loro l'ha aggiornato tutti i giorni magari ha sbagliato perché di là c'è 300 punti in più l'antenna luce è difficile se hanno fatto quelli dell'archea hanno fatto 300 punti vuol dire che l'antenna luce ha già calcolato quei più 300 che hanno fatto in questi giorni e li ha tolti i 600 ah ok si è probabile ma non sono tolti però perché lui sta dicendo che magari l'antenna luce ha già tolto i punti di Quintana ok e ha già sommato i punti che l'archea ha fatto in questi due tre giorni dove su Pesaki non è ancora aggiornato capito però io avevo letto che quei punti lì Lucia non li ha allevati magari ha già allevati allora non era più affidabile io avevo letto un articolo no no è giusto è giusto no perché allora non è giusto perché se l'hanno levati hanno sbagliato eh vabbè ho capito però sono cioè li hanno già levati però hanno aggiunto i punti che ha fatto l'archea in questi ultimi da quando c'è l'ultimo aggiornamento di First Cycle Luvella ha vinto stavo cercando una cosa però ragazzi siamo siamo in conclusione oversize ah io chiudo siamo in conclusione ragazzi ci vediamo la prossima settimana tanto torno operativo giovedì magari poi se c'è qualche tappa interessante facciamo anche qualcosa di breve in settimana però in teoria giovedì sera ciao a tutti ciao alla prossima ciao ciao arrivederci arrivederci